Il principe Harry si è detto così dispiaciuto per la cancellazione dei Warrior Games di quest'anno, l'evento che ha ispirato uno dei suoi sforzi di maggior successo. Il principe Harry ha coospitato ieri un evento virtuale in onore degli atleti dei Warrior Games, delle loro famiglie e dei loro custodi. Parlando dalla sua casa di Montecito, Santa Barbara, il duca del Sussex ha espresso candidamente la sua tristezza nel vedere l'evento essere rimandato dopo che i suoi partecipanti si erano allenati così a lungo per prendervi parte. Ha detto. Mi dispiace così tanto che non siamo tutti insieme ai Warrior Games dove dovremmo essere. La pandemia ha sicuramente cambiato o capovolto la vita di così tante persone. Sappiamo tutti quanto sia importante l'allenamento per questi momenti. Non si tratta di medaglie. Non si tratta nemmeno di vincere. Per quanto riguarda la maggior parte di noi, voi ragazzi avete già vinto. I Warrior Games 2021 avrebbero dovuto svolgersi dal 12 al 22 settembre in Florida, ma sono stati annullati a causa delle crescenti preoccupazioni per la rapida diffusione delle varianti Delta. Punto punto. Al posto dell'evento, un torneo multisport per personale di servizio malato, ferito o ferito e veterani, il principe Harry, la first lady statunitense di R. Jill Biden, il presidente e CEO della Fisher House Foundation Ken Fisher e il segretario alla difesa Lloyd Austin hanno organizzato questo omaggio agli atleti e ai loro sostenitori. Parlando ai partecipanti virtuali, Harry si è apertamente aperto su quanto siano importanti per lui i giochi creati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 2010. Ha detto. Non dimenticherò mai quella prima visita che ho avuto ai Warrior Games. Che mi ha ispirato a creare gli Invictus Games e gli Invictus Games non sarebbero mai stati creati se non fossi stato ispirato da ognuno di voi, e dal vostro compagni, e le famiglie per tutto quello che mettete al servizio di questo paese. Quindi di nuovo, solo un enorme grazie. Questi giochi sono così importanti, che siano i Warrior Games, gli Invictus Games, sono in definitiva il promemoria del servizio sia a casa che all'estero, si tratta di prendersi cura della forma fisica e mentale di coloro che hanno sacrificato così tanto.